Ubriaco sottrae le chiavi alla polizia che gli aveva sequestrato il furgone e fugge per poi schiantarsi contro il cantiere del muro della biblioteca in via Vittorio Veneto. È successo l'altra sera a Verbagna. Gli agenti delle volanti della questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un furgone con a bordo una persona, probabilmente ubriaca, che guidava a contromano e creava disturbo nella zona di piazza San Rocco a Intra. Le pattuglie lo hanno fermato e controllato. Alla guida del mezzo c'era un 25enne della provincia di Varese in stato visibilmente alterato. Gli agenti lo hanno quindi sottoposto all'alcol test, che è risultato positivo, con un tasso superiore a 2 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito. Per questo nei suoi confronti, come previsto dalla legge, sono scattati la denuncia e il ritiro della patente. Visto l'elevato tasso alcolico è previsto anche il sequestro del mezzo. Mentre gli agenti aspettavano il carroattrezzi per la rimozione del furgone, il 25enne si è però appropriato delle chiavi ed è fuggito. Le volanti si sono lanciate all'inseguimento. Dopo aver speronato un'auto della polizia, il 25enne ha concluso la sua corsa contro i blocchi di cemento del cantiere di Via Vittorio Veneto. Alla fine è stato arrestato per resistenza, danneggiamento e lesioni personali.